il ministro san giuliano potrebbe er confuso galileo con tolomeo confusione culturale il ministro della cultura italiano suscita polemiche roma la settimana scorsa il ministro della cultura italiano gennaro san giuliano si è trovato in una situazione imbarazzante quando durante un discorso ha commesso un grave errore che ha attirato l'attenzione dei media san giuliano che in qualità di ministro della cultura spesso fa riferimento alla storia parlava in un evento dell'importanza di figure storiche e sembrava confondere galileo galilei con claudio tolomeo il commento ha subito scatenato un dibattito sull'istruzione e sulle responsabilità dei rappresentanti del governo anche in altri paesi ci sono state ripetute situazioni imbarazzanti e fraintendimenti da parte di leader politici tali eventi sollevano sempre la questione della qualificazione dei leader e della qualità dell'istruzione storica nella società in questo caso sembra particolarmente critico essendo coinvolto il ministro dell'istruzione che ha una responsabilità istituzionale per l'istruzione e la cultura san giuliano si è pubblicamente scusato per la confusione ma il dibattito sull'importanza dell'istruzione storica e della competenza nella leadership politica rimane urgente sarà interessante osservare come l'incidente influirà sulla carriera politica di san giuliano e sulla percezione della popolazione sulla responsabilità politica e sulle competenze tecniche Anita Fache lunedì 24 giugno 24